Beata Maria Schininà del Sacro Cuore Prese le mosse profonda dell'amore di Dio che si rivela nel simbolo del cuore di Gesù per corrispondere a questo amore accentuò nella sua spiritualità la contemplazione, l'adorazione e la riparazione diede inizio ad una vita totalmente dedicata al servizio dei poveri sull'esempio di Gesù che nel suo amore per gli uomini si fece buon samaritano di ogni umana infermità i poveri della Beata erano gli ammalati, gli anziani, gli ignoranti, i carcerati il suo carisma resta sempre vivo e attuale perché è presente e operante providenzialmente nelle mille forme di apostolato delle sue figlie il Suore e il Sacro Cuore di Gesù L'amore di Dio è indivisibile dall'amore del prossimo più si ama Dio, più si amano i fratelli noi ci siamo consacrate al cuore eucaristico di Gesù non solo per adorarlo nei Suoi altari non solo per amarlo noi ma per farlo amare anche dagli altri e non possiamo farlo amare se prima non siamo noi stesse infiammate di amore se il nostro cuore è pieno e traboccante di amore divino ci sarà facile trasmetterlo e comunicarlo al prossimo come il suo carcere è stato fatto che sia stato vivo e attuale a partire di amore che sia stato vivo e ovviamente Grazie a tutti. Grazie a tutti.